Ciao a tutti, come va? Sono sceso un attimo dalla mia bicicletta per parlarvi brevemente di un'espressione usatissima dagli italiani. Quando ad esempio si finisce di conversare ad esempio al telefono o, non so, su WhatsApp o sulle reti sociali e si vuole esprimere il concetto di rimaniamo in contatto, come dicono gli italiani? Beh, ovviamente i brasiliani dicono, non so, usano l'espressione nos falamos, no? O anche in modo molto così informale a gente si fala, ok? Come si esprime questo concetto in italiano? Attenzione perché molti studenti sbagliano, traducono letteralmente e dicono la gente si parla oppure noi parliamo o ancora ci parliamo, che si avvicina alla versione più corretta ma non è ancora la versione migliore. Gli italiani in effetti esprimono questo concetto con l'espressione ci sentiamo, ok? Quindi noi non diciamo tanto ci parliamo, si può anche dire, ma non è molto usato, preferiamo l'espressione ci sentiamo, ok? Per dire il concetto rimaniamo in contatto. Quindi in portoghese suonerebbe un po' come nos ovimos, ok? Quindi gli italiani si sentono, non si parlano, una cosa un po' strana, ma insomma è proprio così. Ma tornando un po' all'espressione, a quella traduzione letterale, la gente si parla, che ovviamente è sbagliato, attenzione perché c'è una bella differenza tra il portoghese e l'italiano relativamente all'espressione agente, che in italiano sarebbe la gente. Qual è la differenza? Che in portoghese ovviamente si usa molto in modo informale agente per dire noi, no? È un sostituto di noi, di un pronome personale. In italiano non è così, in italiano la gente non significa noi, in italiano la gente significa le persone in generale. Ovviamente, attenzione, la gente è singolare, quindi pensate un po' a questa frase, la gente, la gente ascolta poco e parla molto, ok? Giusto per fare un discorso appunto di carattere generale, quindi la gente ascolta poco e parla molto. Cosa significa? significa noi, significa le persone in generale ascoltano poco e parlano molto, ok? Quindi serve per fare discorsi di questo tipo, di carattere generale o di principi, insomma, per parlare quindi in generale, ok? La gente significa le persone, ok? Bene, spero che sia chiara quindi questa espressione che vi ho detto, che è molto usata dagli italiani appunto per salutarsi, ok? Per dire rimaniamo in contatto, questa differenza tra agenci e la gente. Ovviamente vi invito, se vi è piaciuto, se è stato chiaro, a mettere un mi piace, a darmi suggerimenti, a commentare, a iscrivervi nel canale YouTube se ancora non l'avete fatto e ovviamente ragazzi ci sentiamo, alla prossima, ciao ciao!